Per me è inimmaginabile, ma è inimmaginabile per il prodotto calcio, che non è soltanto la partita, naturalmente è la prestazione degli atleti, il prodotto, ma è anche il racconto, la bellezza del racconto, la capacità di rendere l'evento nell'evento, quindi non soltanto la capacità degli atleti, ma l'esaltazione di quello che sta avvenendo. In questi anni Sky ha dimostrato di avere un'attenzione, un'amore, una passione nel racconto sportivo, in particolare del calcio, che l'ha resa il riferimento più alto da questa posizione, il giornalismo sportivo, televisivo, di riferimento per tutto.